Questo è il mio indirizzo, mi raccomando non lo perdete, io ci scrivo almeno una volta al mese. Caro padre, io sto bene e così spero di voi. Insieme agli altri italiani abbiamo costruito il Lussemburgo e poi ho aperto una piccola impresa che porta il nostro nome. Certo lavoro più di prima, ma almeno adesso sono io il padrone. Mi sono sposato e sono felice. Ci vogliamo bene. Tutto bene? Antonio Spinelli, il suo impegno disinteressato per la nostra comunità. a Lussemburgo è noto a tutti. Perché in Lussemburgo? Perché qui c'è lavoro. In Italia aspetti e speri. Come soffocare, non ce la facevo più. Scusa, perché? Non torni? No Luca, non posso tornare adesso. Sua madre in ansia. Complicato. La prima volta che sono stato in Italia con mia moglie è stata quando è morto mio padre. Almeno ci conosciamo. Meglio così. Con la gente che conosceva, ma poi... è complicato.